Eccolo, eccolo che viene proprio verso di noi, eccolo l'arrivo, eccolo, atterraggio, il primo applauso per il primo dei paracadutisti caduti, i paracaduti ovviamente intendo dire giunti a destinazione, quindi adesso questa è la traiettoria, evidentemente questo è la paracadute, colore bianco rosso e nero, eccolo, 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 toccatolo, adesso si, si è intanto proprio ad fare gol, ha fatto gol, è intanto praticamente nell'arrivo, eccolo qua, qui, 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 qui c'è stata, qui c'è stato invece, avete visto questo paracautista caduto all'interno all'interno di una casa una casa privata non è riuscito a superare il muro e questo potrebbe essere stato un grosso problema adesso dovranno partire i soccorsi benissimo ragazzi qui si comprono le cose evidentemente ci tocca andare a cercare sono scesi tutti mi dicono sbagliato il gancio d'atterraggio ma io adesso devo chiudere questa diretta per andare a vedere le condizioni di questo paracautista che purtroppo come avete visto si è abbattuto dentro il cortile come hanno documentato le nostre immagini vi saluto per ora la libertà ci sentiamo trabredere sono corsi quelli della villetta è andato giù troppo forte